Il governo italiano festeggia per questo accordo sui migranti con la Germania? Il governo ha poco da festeggiare perché molti paesi europei hanno detto no alla ridistribuzione di migranti e la Meloni si è accodata a questa richiesta per fare un favore ai suoi alleati sovranisti come Orban. Però vogliamo dire una cosa al governo di destra di questo paese. Basta con la propaganda elettorale che si sta facendo e che state facendo sulla disperazione dei migranti. Non potete prendere i voti alle prossime elezioni europee sulla base di questa disperazione. Governate l'Italia perché ieri chiedevate le dimissioni della ministra Lamorgese con la metà degli sbarchi e oggi nessuno chiede, nemmeno voi, le dimissioni del ministro Piantedosi. Notizia di adesso, anche il Tribunale di Firenze boccia il decreto Cutro. Noi abbiamo sempre detto che il decreto Cutro aveva gravissimi profili di legittimità costituzionale che da più parti, al di là delle polemiche che fa Salvini e quindi da diversi tribunali, arriva questa bocciatura, ne è una conferma. Questo è un governo che ha un problema serio sul rispetto delle norme costituzionali e sulle norme internazionali e purtroppo questo non accade sul tema dei migranti, lo stiamo vedendo anche adesso con il decreto legge Asset. Il CNEL a guida Brunetta, colui che definiva fannulloni dipendenti pubblici, ha bocciato il salario minimo tra l'altro con una motivazione sconcertante, ovvero che i contratti degli italiani in Italia sono adeguati. Adeguati a cosa nel momento in cui ci sono persone che prendono 4-3 euro l'ora l'orde? Questo francamente è inaccettabile, ma è inaccettabile l'uso politico che è stato fatto del CNEL che dà una sponda al governo Meloni per dire no al salario minimo, mentre noi abbiamo tra l'altro raccolto mezzo milione di firme nel paese per dire sì al salario minimo. Sono totalmente lontani dalla disperazione e dalla miseria in cui si trovano milioni di famiglie italiane.